Il sindaco di Pontecagnano Giuseppe Lanzara ha inviato una lettera a poste italiane affinché provveda a risolvere le problematiche relative alla consegna della corrispondenza. Numerose sono state infatti le segnalazioni dei cittadini circa la mancata consegna della corrispondenza, cui si collegano i pregiudizi derivanti dal mancato tempestivo pagamento di utenze o di forniture. La responsabilità, si legge nella lettera, è da scrivere esclusivamente a poste italiane, alla quale si chiede di garantire immediatamente la corretta gestione del servizio postale sul territorio. In mancanza di risposte, afferma il sindaco, si provvederà ad adire la competente sede giudiziaria.